Amici di Unibet, parliamo di NBA per analizzare gara 6 della serie fra Boston Celtics e Washington Wizards. Finora questa serie ha sempre rispettato il fattore di campo, due vittorie per Boston nelle prime due gare, poi Washington ha vinto gara 3 e gara 4 in casa, in gara 5 ancora i Celtics hanno avuto la meglio al TD Garden. La differenza tra gara 5 e quelle precedenti è che Boston nella quinta partita ha puntato molto più sulla squadra, finora il trascinatore era sempre stato easy a Thomas, che Washington è riuscito invece a tenere a bada nella quinta partita, la differenza era fatta a Avery Bradley, che ha raggiunto il suo primato personale nei playoff e a Lordford, ancora autore di un'ottima prova. Anche in difesa i Boston Celtics hanno limitato a John Wall con un grande lavoro di squadra, alternando molto le marcature nei confronti dell'esterno dei Washington Wizards e così facendo Boston ha evitato le brutte partenze delle prime due gare, non ha dovuto recuperare come aveva fatto subendo dei parziali importanti anche nelle due gare casalinghe e ha controllato gara 5 fin dal primo minuto, non perdendo mai praticamente il comando della partita. Adesso per gara 6 si torna sul campo di Washington, i Celtics sono più squadra e sono più forti, un gradino sopra rispetto ai Wizards, però attenzione perché non soltanto in questi playoff ma anche nelle gare in questa stagione regular season, fra Boston e Washington il fattore campo ha sempre avuto lo meglio, prevedo quindi che i Wizards possano portare la serie a gara 7, ma che i Boston Celtics poi riusciranno a prevalere all'ultima partita e prevedo un'ese a Thomas che tornerà a essere ancora protagonista, in particolare nella settima partita lui è un giocatore che nei momenti cruciali non sbaglia mai in un'eventuale gara 7 al TD Garden, penso che a Thomas sarà assoluto protagonista, però occhio al fattore campo perché in questa serie finora chi ha giocato in casa ha sempre vinto e quindi prevedo che Washington possa portare a casa a gara 6. È tutto amici di Univert, buon divertimento con l'NBA! Grazie a tutti!